Ciao ragazzi, oggi andiamo a rispondere alla domanda di Giovanna che chiede appunto come comportarsi in episodi di binge eating, ovvero di mangiate compulsive. Prima di tutto le mangiate compulsive di solito avvengono quando si segue una dieta molto restrittiva o comunque si fanno diversi sacrifici con la dieta e quindi non si segue un regime alimentare flessibile che permette invece una flessibilità nella scelta degli alimenti e quindi un concedersi ogni tanto qualcosa giusto per poter mantenere la dieta a un regime alimentare equilibrato sul lungo termine. Quando invece ci sono diete di questo tipo troppo rigide, troppo prescrittive, alla fine magari si va a un compleanno o comunque si mangia qualcosa diverso dal solito e uno dice ah cavolo ho sbagliato, ho già fallito con la mia dieta, quindi già che ci sono perché ho già fallito esagero e quindi cominci a mangiare, mangiare, mangiare senza mai più fermarti. In questi casi come comportarsi? Beh, prima di tutto bisogna cercare di amare se stessi e capire ovviamente che siamo esseri umani e quindi possiamo cedere a qualche tentazione e mangiare un pochino più del solito. Ovviamente se ci rendiamo conto che queste voglie improvvise sono abbastanza frequenti, significa probabilmente che i nostri macros non sono adeguati a quello che è il nostro dispendio energetico quindi possiamo vedere di aumentare i nostri macros per evitare appunto questi episodi e queste voglie improvvise. Concerti su qualcosa ogni tanto va benissimo proprio per cercare invece di mantenere la dieta sul lungo termine. Poi cercare di distrarsi, ok abbiamo mangiato quella cosa diversa dal solito, quella cosa peccaminosa chiamiamolo così, prendiamoci su, andiamo a distrarci e facciamo qualcos'altro e soprattutto il giorno dopo non facciamoci salire dai sensi di colpa, non saliamo sul tapirulan per delle ore, non serve assolutamente a nulla perché comunque il nostro corpo cercherà sempre di tornare a quell'omeostasi a cui l'abbiamo abituato per un più lungo tempo possibile nel periodo precedente. Quindi la soluzione migliore è quasi dimenticarsi di questo sgarro, di questa uscita dai binari e ricominciare tranquillamente con la dieta di prima. Il nostro corpo si ricorderà qual era l'omeostasi e l'equilibrio di prima e nel giro di pochi giorni scompariranno anche quelli che sono stati gli effetti negativi di questo sgarro, magari un po' di ritenzione e si ritornerà tranquillamente tutto a posto.